come cancellare o meglio come annullare l'invio di un messaggio su whatsapp come sapete whatsapp vi da la possibilità vi offre la possibilità di andare a cancellare o meglio a rimuovere un messaggio inviato quindi se volete rimuovere un messaggio potete farlo come si fa andiamo a vederlo nel dettaglio basta andare sulla icona ovviamente di whatsapp a questo punto andiamo a selezionare cioè entri entriamo nella chat e facciamo finta che vogliamo cancellare per l'appunto un messaggio che abbiamo inviato teniamo premuto sul messaggio che vogliamo cancellare poi andiamo in alto e troveremo l'icona del cestino va bene ci richiamo sopra a questo punto si può tranquillamente eliminare il messaggio bene ovviamente appare solo la funzione elimina per me ma se avessi mandato da subito il messaggio in questione e volessi cancellarlo sia per me che per lui oppure per lei lo potrei fare sempre andando a cliccare a schiacciare il pulsante di whatsapp l'icona andando a cercare la cosa di chat la funzione che vuoi andare a cancellare e la selezione e poi sempre in atto troverò non soltanto la fu da il messaggio elimina il messaggio linea per me ma ci sarà il messaggio elimina per me ma anche mina per tutti cliccherò su elimina per tutti se vuoi cancellare come rimuove il messaggio che ho inviato va bene vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio per la visione iscrivetevi al canale commentate un saluto caro d'aleandro narratore italiano di youtube italia e al prossimo video tutorial ciao